Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, questo episodio di Non Poi Non Saperlo è dedicato all'espressionismo. Come sempre vi ricordo che se utilizzate questi video per studiare, quindi siete degli studenti, avete bisogno quindi di leggere, sottolineare, eccetera, potete trovare i testi di tutti i miei video, sia in formato ebook, sia in formato cartaceo, su Amazon e vi lascio un link in descrizione. Bene, quindi, in senso molto generale, il termine espressionismo indica una corrente artistica in cui prevale la deformazione della realtà o di alcuni suoi aspetti. Il termine espressionismo è quindi sinonimo di deformazione, così come il termine classico esprime il concetto di misura e armonia, e il termine barocco caratterizza invece ogni manifestazione artistica legata al fantasioso e all'irregolare. Alla nascita dell'espressionismo contribuiscono diversi artisti che hanno svolto la loro opera negli ultimi decenni dell'Ottocento. In particolare possono essere considerati pre-espressionisti autori come Van Gogh, Gauguin e Munch, artisti in cui sono già presenti molti degli elementi caratteristici dell'espressionismo, quali ad esempio l'accentuazione cromatica, il tratto deciso e la drammaticità dei contenuti. Il primo movimento che può essere considerato espressionistico nasce in Francia nel 1905 e passa alla storia con il nome di Fauve, che in francese significa belve. Con questo termine, infatti, vengono spregiativamente indicati alcuni pittori che al Salon d'Automne espongono opere dall'impatto cromatico molto violento. Tra questi artisti ricordiamo Matisse, Deran e Marquet. Caratteristica principale dei Fauve è l'utilizzo del colore in tonalità pure e la reinterpretazione dei soggetti con grande libertà, ottenendo così immagini completamente autonome rispetto alla realtà. Alla definizione del loro stile concorrono soprattutto la conoscenza della pittura di Van Gogh e di Gauguin, dai quali mutuano la sensibilità per il colore acceso e la risoluzione dell'immagine esclusivamente sul piano bidimensionale. Nello stesso 1905, anno di nascita dei Fauve, si costituisce a Dresda, in Germania, un gruppo di artisti che si dà il nome di Die Brücke, il ponte, i cui principali protagonisti sono Ernest Ludwig Kirchner ed Emil Nolde. Anche nelle loro opere si possono osservare i tratti tipici dell'espressionismo già presenti nei Fauve, quali la deformazione caricaturale e la violenza cromatica, con in più una forte carica di drammaticità. E questa è una caratteristica tipica dell'espressionismo nordico, quindi la drammaticità, in cui prevalgono spesso temi quali il disagio esistenziale, l'angoscia psicologica, la critica all'ippocrita società borghese e allo stato militarista e violento. Determinante per i pittori espressionisti nordici è il contributo di Edvard Munch, da cui mutuano la suggestione del fare pittura come esplosione di un grido interiore, un grido che ha il compito di portare alla luce le sofferenze dell'artista. Un altro gruppo espressionistico si costituisce a Monaco nel 1911 con il nome di Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro, i cui principali ispiratori sono Kandinsky e Marc. Con questo movimento l'espressionismo prende una svolta decisiva. Se nella pittura fovista e in quella del gruppo di Brücke, la tecnica utilizzata ha lo scopo di rendere la realtà esterna un'espressione delle risonanze interiori dell'artista, Der Blaue Reiter propone invece una pittura dove l'espressione interiore dell'artista diventa la componente principale e assolutamente fondamentale dell'opera, tanto che l'artista stesso può addirittura ignorare completamente la realtà esterna a se stesso. Da qui a una pittura totalmente astratta il passo è breve. E infatti è proprio Kandinsky il primo pittore a scegliere la strada dell'astrattismo totale. L'ultima mostra dei pittori del gruppo Der Blaue Reiter avviene nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e a soli tre anni dalla loro nascita. Bene, parliamo adesso delle differenze principali che ci sono tra espressionismo e impressionismo. Allora, le differenze tra questi due movimenti sono sostanziali e profonde. L'artista impressionista infatti limita la sua sfera di azione all'interazione esistente tra la luce e l'occhio, cercando di rappresentare la realtà cogliendo esclusivamente quegli effetti luministici e coloristici che rendono interessante e piacevole uno sguardo sul mondo esterno. Nell'espressionismo invece l'occhio diventa esclusivamente un mezzo per giungere all'animo umano, sia quello dell'artista che esprime appunto le sue sofferenze e tensioni e passioni interiori sia quello dell'osservatore. Un'altra profonda differenza tra i due movimenti è che l'impressionismo è connotato da un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Tende infatti a rappresentare immagini gradevoli in cui i soggetti vengono scelti con l'intento di comunicare la gioia di vivere una vita piacevole e spensierata. L'atteggiamento dell'espressionismo è invece totalmente opposto. La sua matrice di fondo rimane infatti sempre profondamente drammatica. L'artista espressionista guarda dentro di sé e vede un mondo fosco e cupo e allo stesso modo quando guarda dentro gli altri non vede altro che orrore mascherato dall'ipocrisia borghese. Non esita quindi a ricorrere a immagini brutte, quindi l'artista espressionista, non esita a ricorrere a immagini brutte, tra virgolette, e sgradevoli. Anzi con l'espressionismo il brutto diventa una vera e propria categoria estetica, cosa mai avvenuta prima con tanta enfasi nella storia dell'arte occidentale. Bene, questo è tutto, spero che abbiate trovato questo video interessante, fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre vi ricordo che se avete bisogno di studiare questi argomenti trovate i testi dei miei video sia come in formato ebook sia in formato cartaceo sulla mia pagina Amazon e vi lascio un link in descrizione. Bene, ciao a tutti e alla prossima!